Il buongiorno dalla redazione, ancora una volta insieme, News, Capocino e Biroscia, appuntamento il mattino presto a 6.30 con lo sfoglio e l'analisi dei quotidiani in edicola. In questo 18 agosto 2022 diamo subito il buongiorno anche a Francesco Snidero che si trova in regia, si occupa della parte tecnica. Ricordiamo che oltre allo sfoglio abbiamo la possibilità di interazione, quindi leggere i vostri messaggi, commenti, considerazioni che possono pervenire dunque via Whatsapp al 327 94 39 574. Partiamo con l'analisi delle prime pagine. Grazie al messaggero Veneto subito si parla del risparmio tradito, la truffa delle criptovalute indagati e perquisizioni, l'inchiesta della procura di Pordenone. Finora in totale vi sono sei persone coinvolte. In centropagina il volto dieci anni fa il delitto burgato che sconvolse il Friuli fu un risveglio agghiacciante, era la mattina del 19 agosto 2012, faceva caldo ma un brivido freddo, come detto, gelò il sangue a tutti nelle vacanziere del Lignano. Sulla sinistra verso il voto la sfida alla magistratura, Berlusconi torna sulla giustizia, soluzioni non appellabili. La polemica Salvini attacca, il virologo Crisanti letta invece lo difende, dice destra. Novax, regione, le candidature di FD e Lega, sei in corsa per tre seggi. La parte più bassa si parla a Fagani invece di un'area verde per il DJ Robert Miles, l'autore del noto brano Children, un'area verde proprio a Fagani, ombreggiata dagli alberi, attrezzata con giochi per bimbi, come quelli su cui Roberto Concina. La spalla di destra ci riporta alcune cronache partendo subito dal salvataggio sulla cascata dove era rimasto bloccato a circa 30 metri di altezza. Sotto Udine investimenti per il pronto soccorso ma anche per le terapie intensive, si parla di sanità. Alla pagina 20, i landri fanno razzia in un appartamento, il bottino ammonta 15.000 euro. Si sente male mentre sta nuotando a Lignano, muore un turista veneto di 65 anni. Nella parte più alta abbiamo ancora dei notizi in breve, l'esperto spiega come è cambiato il covid, il virus colpisce gli anziani già ammalati. Ci sono 10.000 posti disponibili ma non si trova personale. Andiamo dunque a vedere come apre il gazzettino del Friuli Venezia Giulia in questo giovedì 18 agosto 2022. Ancora il caso criptovalute. Ci sono sei indagati. La procura di Pordenone ha con una informativa fiamme gialle sul caso della New Financial Technology. Ieri le perquisizioni. Pordenone è individuato uno dei presunti procacciatori. Tra i soci sparita la maggior parte della documentazione. Il caso oltre 160 comuni senza segretario. Tutti rinunciano. In centro pagina ci sono i dati dell'Osmer. Piogge dimezzate in otto mesi. Si parla ancora della siccità e delle problematiche legate alla carenza di precipitazioni. È stato un luglio record dove Cividale del Friuli sembra l'Africa. Cividale che a luglio sono state infatti registrate le temperature medie e massime più alte di tutta la provincia. Lo ha certificato appunto l'Omer. L'Osmer nel rapporto che ha comunicato i dati relativi al mese scorso. Piogge quindi dimezzate quasi ovunque. Il recupero urbano delle aree dismesse. Tesori da riscoprire. Dalla ex Berkeley. Progetti più famosi. L'aggiunta Fontanini scommette sul futuro. Il fiore all'occhiello. Nuova Dormish. Ultime verifiche. Prima poi del via libera. Si parla anche di sport. Nel taglio basso. Udinese ballottaggio Perez Ebo con la Salernitana. Basket A2. L'All-Way West applaude l'americano Sheryl dopo doppio premio in casa invece della Gesteco. A destra la spalla. L'ossa allontanata. Cade addosso ad un anziano nella RSA. Aveva assunto alcolici. Cividale torna il paglio. Il patrono colora il centro. Ferragosto senza eccessi. All'Ignano ci sono state poche multe. Quelle due ritirate le patenti su 65 guidatori in totale che sono stati posti sotto controllo. Nella parte più alta. Tre notizie flash. Coesse Eugenio in via di gioia. Il due psicologi Drusilla. Fer a notti in arena. Quileia al primo Young Festival. Tanti eventi. C'è anche Benji e Friuli Estate. Anais Nin. Luci e Scandali della scrittrice dell'erotismo. Il quotidiano Il Piccolo. In questo 18 agosto invece apre con questa grande immagine. Un titolo che è 10.000 atleti in fuga dallo sport per la pandemia. Parte il recupero. Il car si è in fiamme. L'incuria la colpa al dollo. 34 inchieste sugli incendi. Le procure sono quindi al lavoro. Per i vigili del fuoco. Prevangono le cause accidentali. stando a quanto riferiscono. Sono 5 però i casi sospetti degli incendi che abbiamo avuto nelle ultime settimane. Le nozze carsiche di Dana Ivan abbiamo aspettato per tre anni. Li vediamo qui in centro pagina punto. E sotto invece l'omicidio dei coniogi Burgato. Quel duplice delitto che dieci anni fa aveva sconvolto la città di Lignano. Che avevamo visto anche nel messaggero Veneto. A destra si entra in città Trieste partendo dall'azienda da Varsila. Oggi l'incontro in prefettura con i coreani di Daewoo. Sotto l'ascito H al comune individuati i catalogatori dei 18.000 volumi. Dalle case e cassonetti. Così due writer hanno colpito per ben 664 volte in città. Vediamo i graffiti lasciati sul muro da questi due. Poi i quattro ingegneri che hanno cambiato il volto di Trieste. Nella parte più alta anche qui ci sono ulteriori due news. A sinistra il ritorno del cavaliere Berlusconi che sfida ancora i giudici. Dice basta innocenti perseguitati. Poi l'ist del PD Charlie cambiare il segretario. Ora c'è da tacere e lavorare. Sono le sue parole. Diamo uno sguardo nazionale. Con l'informazione partendo dal Corriere della Sera si apre subito con battaglia su giustizia e virus. Letta attacca con la destra più morti. La Lega insorge. Basta speculazioni. Verso il voto Berlusconi rilancia le assoluzioni non appellabili. Merloni reddito di cittadinanza. Merloni dice è stato un fallimento. Letta attacca con la destra più morti. Come dicevamo. Ma poi sotto l'identikit Renzi dai quiz agli atti corsari. Poi sfida a Roma Centro. Bonino Calenda. Accuse e veleni. A sinistra Pechino e Mosca schierano le truppe. Manovre comuni. Mentre invece a destra si parla del decesso a 62 anni dell'avvocato Niccolò Ghedini. In centro pagina gli incendi che continuano a preoccupare non poco. Fumo e fiamme sull'isola dove ci sono Tardelli e Merlino. Doppio rogo a Pantelleria. In fuga anche Armani. Andiamo sotto. Nel taglio basso il ritorno dei turisti americani in Italia. Repubblica apre ancora con la campagna elettorale. Con la scritta destra. Novax letta contro Lega e FDI dopo l'attacco al virologo Crisanti. Se avessero governato nel 2020 aggiunge ci sarebbero stati migliaia di morti in più. Demmeri toccate le liste per ricucire gli strappi. Gli alleati alla prova dei collegi uninominali. Grana fronte a Yanni a Pisa. Giustizia Berlusconi rilancia l'inappellabilità delle assoluzioni. Il vaccino contro il populismo. PD partito vittima del fuoco amico. A destra scene sconfitta. Dichiera la guerra invece a Trump. Centro pagina due immagini a sinistra. L'inchiesta sui diritti. Tra i bacianti del Foggiano in fuga dai ghetti e caporali. Adesso invece in ricordo del libro. Io incantato da quegli uomini di Riace. Chiudiamo con la stampa. Si apre con il caso Crisanti. Covid che contagia le urne. Lite sulla candidatura col PD. Salvini Novax è un esperto di zanzare. Letta con te ci sarebbero state 300.000 vittime in più. Berlusconi le toghe perseguitano gli innocenti. Le critiche di Caffiero Neraio. E poi scompare a 62 anni invece Niccolò Ghedini l'avvocato. Adesso racconto la storia dei versetti. E l'ultima tentazione del profeta Maometto. Maometto in centropagina abbiamo due immagini anche in questo caso. A sinistra italiano con TikTok. La cittadinanza all'uomo star del web che vediamo nell'immagine. Mentre invece a destra in cella per un tweet. Salma condannata in Arabia Saudita. Ucraina. Quei visti dati ai russi che dividono l'Europa. E poi il Medio Oriente. Soluzione confederale per la terra di Israele. Questo per quanto concerne l'informazione nazionale. Del quale abbiamo dato solo uno sguardo veloce qualche minuto. Ora siamo pronti invece a procedere con l'approfondimento legato ai principali quotidiani. Della nostra regione Friuli Venezia Giulia. Ricordando ancora in sovimpressione vi è il numero per interagire con noi. Tra un pochino ripartiremo proprio dai vostri messaggi. Francesco che è in regia. Siamo pronti? Andiamo un attimino in pubblicità. I nostri telespettatori prendono un caffè e poi ci ritroviamo qui. Sarà ancora news. Cappuccino e brioche. Allora diamo invece il saluto alle persone collegate con noi nel web. Buongiorno amici di Facebook, amici di YouTube, lo streaming, le persone all'estero. Che tutti i giorni si collegano con noi, ci salutano, ci danno il buongiorno. Per cui subito un caro saluto va a loro. Che sono puntuali, non mancano mai. Che poi anche inviano qualche messaggino come poco fa. Stavo ne ricordando, ma a proposito di questo abbiamo circa un minuto e mezzo in tv di pausa che ci consente di andare a fare due cose. La prima sicuramente è quella di aprire l'app, perché sicuramente poi mi sono già perso i primissimi dieci minuti per quanto riguarda i vostri saluti. Quindi vado subito a integrare dicendo Monica Fiorindo, buongiorno. Grazie Monica del messaggio. E poi anche la Linda Tonizza che ci saluta e tutti gli altri che poco sopra avevano scritto. Poi ancora dall'altra parte, invece, abbiamo i messaggi che continuano ad arrivare mediante WhatsApp. Tutte le mattine abbiamo la nostra fedelissima Florence che ci segue da Maniago. Anche oggi non manca mai alle 6.34. Buongiorno e buona giornata a tutti. Ciao Florence e poi faccio un saluto. Invece da chi dal Veneto mi sta segnalando le piogge come in provincia di Vicenza. Abbiamo tanti messaggi riguardo al tempo e poi ricorderemo solo in un secondo momento quando proprio parleremo della siccità, dei dati, delle temperature, quelle più alte registrate a Cividale del Friuli in questo luglio da record. Appunto faremo un piccolo appello per quanto riguarda l'attenzione rispetto all'allerta maltempo arancione in Veneto o giallo in Friuli Venezia Giulia avremo durante la giornata del pomeriggio. Più verosimilmente verso sera temporali anche forti con precipitazioni intense. Questo dicono i previsori. Vediamo se sarà così. Ed ancora Angela ci saluta. Buongiorno Roberto a tutti voi da La Tisana. Buongiorno Angela. Oggi parleremo di La Tisana più tardi con la perdita del vostro caro Rolando persona che aveva fondato la protezione civile proprio nella città. Si era molto dedicata alla comunità della bassa. Ne parleremo più tardi sfogliando il messaggero. Purtroppo è mancato nelle ultime ore. Ed ancora altri messaggi. Mamma quanti ce ne sono. Faccio un saluto subito a Davide che ci segue invece da Pordenone. Dice Roberto buongiorno. Questa notte quattro gocce d'acqua ma confidiamo nella giornata odierna con i temporali. Grazie Davide ed è quello che poco fa ho detto per quanto riguarda proprio il maltempo che dovrebbe arrivare tra oggi e domani. Ci sono due giorni infatti di allerta meteo. Detto questo siamo pronti per ripartire. Cosa faremo ora? Oltre a leggere i vostri messaggi come abbiamo fatto ce ne sono altre tanti da leggere. Ripartiremo con il messaggero Veneto che è già in sovrimpressione. Daremo uno sguardo alle principali news a livello generale della regione qui e nel quotidiano il piccolo. Dopodiché invece alle 7 andremo con, o poco prima, l'approfondimento anche con il gazzettino e poi tutti i comuni anche legati alle varie province della nostra regione. Torniamo ora invece in televisione. Se volete, canale 11. Ritorno al news. Cappuccino e broci ancora buongiorno. Siamo alle 6.43 del mattino insieme da 13 minuti circa in questa diretta. Anche questa mattina con lo sfoglio e l'analisi dei quotidiani. Tanti messaggi che già sono arrivati anche legati al tempo. Davide che ci segue da Pordenone. Ci si vede 4 gocce questa notte in città. Ma attendiamo i temporali che sono stati annunciati per la giornata odierna. Questo è il messaggio del telespettatore Davide che salutiamo e ringraziamo tra i tanti messaggi già pervenuti in redazione ma che anticipano un po' quell'allerta meteo che già era stata diramata nella giornata di ieri. Lo ricordiamo alla massima attenzione dal pomeriggio di oggi ma anche per la giornata di domani per temporali anche violenti e precipitazioni localmente abbondanti che sono state appunto emesse in questo bollettino della protezione civile. Si prosegue dunque con lo sfoglio del giornale Messaggero. Il delitto che sconvolse il Friuli l'avevamo appreso nelle prime pagine alle 6.30. Rosetta Sostro, Paolo Burgatto avevano 65-59 anni. furono massacrati nella loro villa per una rapina fallita. Lissandra è stata condannata all'ergastolo con la sentenza del 2013 dal GUP di Udine. La vediamo qui sulla sinistra proprio all'arrivo in tribunale a Udine a destra. Il fratellastro intervistato a Cuba dopo la sua fuga. Due intere pagine per ricostruire e ricordare soprattutto quanto era successo quella mattina di dieci anni fa, 2012, proprio a Lignano. Ma ora ci copiamo invece di massima attualità, di criptovalute, NFT, l'inchiesta per truffa, perquisizioni a Pordenone. La procura ha aperto un fascicolo sulla New Financial Technology. Ci sono sei iscritti nel registro degli indagati. La Guardia di Finanza è al lavoro da mesi per ricostruire. Questo meccanismo di raccolta fondi da parte dei trader vantavano di avere un algoritmo che poteva produrre il 10% del beneficio rispetto a quanto le persone andavano a depositare. Ma pare, secondo le prime indagini, che questo algoritmo non è mai esistito. Il procuratore Tito, ancora una volta, troppe persone hanno infatti investito imprudentemente e hanno perso così i propri risparmi. Ponzi è il nome di uno schema truffaldino in cui gli ultimi arrivati alimentavano la catena e poi Bitcoin, la più famosa tra le monete virtuali. Ma sarebbe stata solamente Unesca. Questo almeno quanto vanno ad affermare. Poi le associazioni, domenico un incontro tra gli investitori, ci chiamano dal Friuli. Giorno dopo giorno si allarga il fronte di chi tra i risparmiatori ha il dubbio di essere stato truffato, proprio leggendo quanto in questi giorni viene divulgato anche dai media. Parliamo invece in questo caso di politica, l'abbiamo fatto già nelle prime pagine, leggiamo candidati del centro-destra, in sei corrono per tre posti nelle liste di FD e Carroccio, oggi Rizzetto a Roma da Meloni, domani si definiscono anche le scelte nella Lega. L'accordo di coalizione prevede il deposito dei nomi a Trieste entro la giornata di domenica sera. Ancora notizie dalla regione, in agosto abbiamo avuto 59 vittime anziane già malate rispetto al Covid e così è cambiato il virus. Questo è il bilancio. Ma poi aggiunge il messaggero con approfondimento, il virus non sta più causando morti per polmonite o problemi vascolari, come vedevamo negli anni 2020-2021. Ora il Covid colpisce in particolare pazienti fragili o comunque pazienti anziani, così come sotto è sottolineato all'interno dell'articolo. Per chi vuole approfondire può acquistarlo in edicola. Dall'incurria del dolo, 34 eroghi in un mese, ce ne occuperemo tra pochissimo per quanto riguarda gli incendi in regione, ma in particolare legato a Trieste e Gorizia. Lo faremo grazie al quotidiano Il Piccolo, tra meno di due minuti. In Friuli, Venezia e Giulia, 10.000 posti pronti in luglio, un'azienda su due non trova personale, abbiamo carenza di operai specializzati, conduttori di macchine e impianti, c'è più disponibilità nel commercio e servizi. Poi sintetizzato il mercato del lavoro in queste percentuali, le vediamo velocemente, entrate previste per profilo professionale, 29% proprio si cercano operai specializzati, anche conduttori di impianti seguiti dai professioni commerciali e poi anche legati ai servizi. ITA, tutti i sindacati, spingono per la vendita della compagnia. Lunedì le offerte al tesoro Lufthansa MSC in Pol. Tra un pochino procederemo con il messaggero e parleremo di sanità e riorganizzazione in ASUF di pronto soccorso terapie intensive. Ma prima, come già del resto accennato e anticipato, torniamo nel quotidiano Il Piccolo, parliamo purtroppo di un mese difficile, quelli di giugno e luglio, i primi giorni di agosto, per quanto riguarda gli incendi nella nostra regione, ma con un focus particolare proprio su quanto abbiamo registrato sul carso a cavallo tra Trieste e Gorizia e poi anche gli ultimi incendi di Duino. Dall'incuria al dolo, ci sono 34 incendi in un mese, indagano la procura di Trieste e Gorizia, ci sono sospetti su ben 5 episodi, dove appunto si va a sospettare il dolo, quindi sia stato appositamente appiccato il fuoco. Ancora complessivamente, in regione tra qui e la Slovenia, sono andati distrutti 4.000 ettri di pinette e poi altrettanti boschi, eppure diverse eradure. In molti casi, in molti casi la causa sarebbe riconducibile a scintille innescate da treni al passaggio delle rotaie, ma si ipotizza l'intervento poi di piromani in occasione delle fiamme che sono divampate sul Rilca il 12 agosto. Lì ci sarebbe quasi la certezza che l'incendio non era casuale. L'imprudenza dietro a quanto è venuta a Patriciano e Ferragosto, trovati i resti di un falò acceso da alcuni ragazzi, che poi avrebbe alimentato le fiamme, bruciato i boschi, resta il momento senza spiegazione la violenza che ha colpito tra Bevene che Croate e vicino alla Siotti ancora il 9 agosto. Quello, non vi sono ulteriori ancora notizie in merito. Andiamo all'interno invece sempre del quotidiano il piccolo, ripartendo dalla città di Trieste con la cronaca. Quelle che vediamo sono le scritte lasciate da due ragazzi che monterebbero almeno 664 graffiti. Così imbrattavano i muri della città sono stati denunciati, identificati un 21enne e un 23enne, deturpavano edifici pubblici ma anche quelli privati. Ora riscono una condanna penale. Multe risarcimenti per decine di migliaia di euro. Dal borgo Teresiano a San Giacomo o dalla ex Fiera Muggia c'erano le loro firme e sono stati identificati. Dopo quasi un anno di indagini per scoprirli. Serve uno spazio libero per i giovani, le multe rovinano le famiglie. Lo street artist Federico Duse dell'associazione Melart non ha dubbi. Chiediamo da tempo un muro legale dove i ragazzini possano esprimersi invece non cercare di farlo contro la legge. Transizione digitale un esperto in comune organici rafforzati pure in asilo nido musei polizia locale Cipriani agli impianti sportivi Prodoan al Project Finance in Teatro Romano a Verona la Trestina a Quamterotto è il nuovo manager. Nella pagina vicino del piccolo leggiamo Costituito il comitato che catalogherà in 18.000 volumi l'ascito AC Matteoni sono arrivate le nomine dagli istituti nazionali fisica nucleare astrofisica nonché Sissa Uniti Rieste e poi anche legato all'immaginario Sposi Last Minute poi anche invece internazionale super lavoro per gli uffici comunali ci sono queste nuove tendenze pratiche presentate con un solo mese di anticipo e ci sono sempre più richieste da parte anche dei non residenti Villa Rivoltella nel degrado off limits Savino ipotesi di riqualificazione con la regione torna alla tradizione delle nozze carsiche per Dan e Ivan un sì atteso da tre anni l'abbiamo visto anche in prima pagina questa mattina presto Monrupino riconquista questo suo storico appuntamento ferma nel 2014 5 giorni di festa per futuri sposi fino al matrimonio poi il 28 agosto li vediamo qui accanto anche nell'immagine ad integrazione chiudiamo invece con Muggia si parla di rifiuti nel centro l'opposizione va in pressing sull'argomento sono state infatti presentate ben due interrogazioni interleofili chiedono chiarezza su tempi e risorse per le isole ecologiche parlano di degrado indecente Polidori non abbiamo bacchette magiche questa è la sua risposta in sintesi ci spostiamo nell'altra edizione del quotidiano il piccolo ancora il buongiorno andiamo a Gorizia a Monfalcone ma l'intero Isontino per analizzarne insomma i titoli che oggi vengono riportati e che troverete in edicola proprio grazie al quotidiano il piccolo si riparte dalla città di Gorizia piste per lo skate e per bici BMX nei 12 etteri del parco Valletta lavori al momento sospesi in vista della variante al progetto l'area estesa è un'ampiezza pari a 15 campi di calcio davvero in male gli scherchi fognari e poi ci sono tutti i progetti con rendere di quanto si andrà a realizzare l'intervista romano tempi difficili il ceto medio chiede aiuto e bussa in municipio è la quarta esperienza d'assessore dopo le due giunte ero a molly il primo mandato con Ziberna candidatura impresentabile dice sono tranquilla nulla da rimproverarmi comunque mi difenderò vediamo Silvana Romano assessore comunale welfare ed assistenza è deceduta Caterina Caterina Mudlich anima del circolo Tullio Crali il mondo dell'arte qui è in luto la donna aveva 83 anni con il marito Dario è stata promotrice dell'associazione culturale il suo obiettivo era quello di portare Gorizia al centro del panorama artistico mitteleuropeo vediamo qui la donna Caterina Trevisan Mudlich aveva 83 anni elegante appassionata tanto nel lavoro quanto nei rapporti interpersonali così la ricordano Monfalcone il turismo guarda ai tre marina investimento da 152 mila euro l'organizzazione valorizzazione del territorio in questo progetto multimediale vengono coinvolti l'ex cannibal l'oceam le panto e poi per far conoscere oltre al litorale Carso Panzano eppure il centro storico la vernice in mare dalla nave in sei finiscono al processo l'accusa di inquinamento fatti erano avvenuti nel 2018 durante il livellamento della carena della Carnival Horizon sono coinvolti i vertici di fincantieri alla petrol lavori la lunga lista poi dei testimoni racconto di Martina l'incidente automoto ringrazio i passanti che mi hanno aiutato per quanto è successo invece a Staranzano a destra la colonia di nudisti a Turriaco ma in paese c'è chi dissente vicino alla cosiddetta isola d'elba sull'Isonzo si danno appuntamenti foresti per prendere tintarelle integrale i contrari dicono così qui non viene più nessuno Sandrigo altre dichiarazioni sono nella pagina ancora più in là priorità al dialogo con l'Ater per avere un infermiere per la comunità siamo a Ronchi dei legionari tra gli obiettivi ci sono recupero sociale delle case pater e migliorare la sanità per i cittadini di Ronchi l'assessore alle politiche sociali la vediamo qui sulla destra Elisa Sandrigo poi ancora chi è è un'ostetica dal 2006 candidata nel Bidi con 44 preferenze la bonifica mirata non basta appello a Ronchi dei legionari contro le zanzare disinfestazione poi tutte le regole a Gradisca il centro per i chiedenti asilo espulsi i migranti i protagonisti della Rissal cara di Gradisca sindaco Tomas Indic chiede di alleggerire ora la pressione la capienza certificata è di 200 persone ma all'interno della struttura vi sono ben 600 grado ramagli sagrado ramagli abbandonate sul bordo e la strada Vittorio dice inaccettabile poi Cormonsi invece mostra e musica la festa dell'uva non è solo sfilata ci saranno ben tre giorni mostre arte eventi cultura divertimento questo clou rappresentato da una rinnovata poi sfilata anche durante la giornata di domenica il motoscafo finisce in secca è stata soccorsa una famiglia gradese i genitori assieme ai loro bimbi piccoli di 5 e 2 anni sono stati raggiunti alla mula di Muggia dove i fondali sono bassi i marinai costretti a scendere in acqua poi alla fine per recuperarli ancora per grado a 64 anni è deceduto Toso cameriere ristorante alla vecchia marina ancora sotto invece l'esponente del PD Moretti in calza sul ponte Cucchini capogruppo regionale DEM inoltre sollecita il comune sull'utilizzo dei fondi PNR per l'energia geotermica e anche quella legata al teleriscaldamento i fatti di casa serena denunciata da Inas un'operatrice è stata licenziata lei sarebbe caduta su un anziano di 91 anni procurandole delle lesioni ma la peggio è che la persona operatrice sanitaria era ubriaca quando il fatto è successo con questo ci fermiamo solo un attimo siamo giunti alla prima mezz'ora di trasmissione in questo giovedì 18 agosto allora ancora il buongiorno a quanti sono sintonizzati con noi ricordiamo possibilità di interagire mediante il numero ancora in servire impressione e tra un po' si procederà invece con il gazzettino l'analisi del quotidiano legato alla regione friuli venezia giulia ancora una volta piccolo break e poi news cappuccino e brioche allora ancora buongiorno persone collegate con noi passiamo direttamente al gazzettino e ci prepariamo per la ripartenza per parlare della guerra dei sindaci ma poi ancora una volta come già abbiamo fatto nella prima mezz'ora legato ai risparmi bruciati ancora fatemi sapere cosa ne pensate rispetto alle criptovalute l'nft e quanto è emerso secondo ma almeno la procura rispetto a un algoritmo che poteva produrre così garantire diciamo il 10% degli investimenti delle persone ma che alla fine secondo le prime indagini questo algoritmo non è mai esistito con la perda di migliaia migliaia di euro per le persone Giovanna dice buongiorno ciao Giovanna Efraini grazie per il messaggio Luana Pulcinella ci saluta anche lei poi tanti altri dice Milena Betto buongiorno Vittorio Veneto pioggia e vento quindi ancora tante le segnalazioni meteori questa mattina rispetto un po' al Veneto con diverse piogge che sono un po' qua un po' la macchia di lopardo insomma che stanno bagnando i nostri terreni nel quale abbiamo molto bisogno dall'altra parte invece l'allerta le due allerte quella arancione in Veneto per oggi e domani e quella gialla invece per il Friuli Venezia Giulia Hamid dice buongiorno Roberto e un felice giovedì a tutti grazie Hamid tutto bene fammi sapere cosa farai oggi dove sei e poi ancora messaggi Whatsapp invece dall'altra parte al 327 94 39 574 concedetemi un saluto veloce alle persone all'estero che ho fatto anche questa mattina in diretta quando abbiamo iniziato ma lo faccio perché appunto vado a salutare Aldo che ci segue da Monaco o poco lontano da Monaco e dice anche questa mattina con voi il mio pensiero al Friuli Venezia Giulia ma l'intera nazione quando qua invece io sono al lavoro allora finalmente l'abbiamo scoperto che cosa fai Aldo l'avevo chiesto l'altra volta poi non so se mi avevi più risposto dovete sapere che Aldo ci segue in streaming quindi se volete o su Facebook YouTube oppure anche sul sito telefriuli.it al pulsantino live e si trova proprio vicino a Monaco per ragioni di lavoro ma dice ancora la mente il cuore i pensieri sono proprio con noi a nord est grazie ci fa molto piacere lui e poi tutti gli altri perché non è l'unico c'è tanti come la Danina dal Brasile altri ci seguono proprio da punti molto lontani del nostro territorio detto questo ripartiamo dai siamo pronti andiamo a sfogliare insieme il gazzettino solo titoli andremo veloci per poi tornare in città a Udine un paio di minuti con notizie della città da quali molti ci stanno seguendo e poi andare su tutta la provincia di Udine Pordenone con i vari fatti cronache che ci arrivano dai vari comuni proprio lì partendo dalle varie zone da quella in particolare Udinese ripartiamo se volete anche e siete a casa accendete la tv sul canale 11 del digitale terrestre secondo spazio nostra a disposizione i prossimi 30 minuti per completare la informazione con lo sfoglio i quotidiani oggi in edicola ripartiamo ora dal gazzettino non prima di aver fatto qualche saluto come anticipato prima del veloce break ancora il buongiorno e la buona giornata anche a quanti ci stanno seguendo durante la replica ricordiamo viene riproposta alle ore 8 e 30 ancora segnalazioni per quanto riguarda le piogge alcune persone insomma ci registrano così ci comunicano le piogge che sono scese durante la notte seppur poche poi ancora lo ricordiamo l'allerta meteo diramata ieri dalla protezione civile regionale allerta meteo gialla con probabilità alte probabilità di piogge localmente anche abbondanti oggi ma anche nella giornata di domani venerdì 19 agosto facciamo invece i saluti a quanti ci seguono dall'estero che sono collegati con noi come Aldo che si trova vicino a Monaco grazie al sito telefriuli.it in streaming è collegato con noi tanti altri invece si trovano nelle loro abitazioni e stanno godendo degli ultimi giorni di vacanze di ferie come il caso invece della Donatella che ci si vede a Cividale del Friuli dice Roberto Countdown conto alla rovescia insomma dice tradotto in italiano per il ritorno al lavoro godiamoci questi ultimi tre giorni di vacanze e ci sta seguendo grazie buongiorno Natella buongiorno Cividale e quanti sono con noi riprendiamo verso il voto dunque la guerra dei sindaci per avere un municipio il segretario comunale in regione ve ne sono almeno 160 comuni che hanno il tutore a scavalco con altri disegno di legge per chiare l'ordine regionale ma poi è scoppiata la polemica la nota riporta è una figura che determina la legittimità degli atti ed è necessario nei consigli comunali Jacob Pd si dice amareggiato e deluso il garante ha deciso di tutelare la sua corrente a destra il buco milionario ne parliamo ancora una volta i risparmi che sono andati bruciati rispetto al caos e caso criptovalute ci sono i primi sei indagati ieri le perquisizioni in tutta Italia partite da Pordenone fino a Roma i soci della New Financial Technology già sparita la maggior parte dei documenti la finanza indaga anche due mediatori oltre a questo si parla ancora di algoritmo che poteva o doveva insomma avrebbe dovuto così a detta loro garantire il 10% del ritorno rispetto agli investimenti ma questo secondo le prime indagini non sarebbe mai esistito il procuratore Tito troppe imprudenza sono stato inascoltato l'eco mediato creato dalla vicenda costretto gli inquirenti a scoprirsi prima del previsto era fondamentale recuperare documenti eventuali agende tutto al momento è stato fatto sparire ora sarà ancora più difficile approfondire la questione un meccanico sospettato di aver raccolto denaro ma dice non centro ero un semplice cliente si parla anche dei vari procacciatori mentre continuano gli accertamenti le aree dismesse verso il recupero una nuova asta per l'ex Bertoli per l'ex Safaum inserita nell'ambizioso progetto Udia 2050 ci sarà bisogno della collaborazione finanziaria di RFI variante ex Dormish ultime verifiche prima del via libero definitivo al piano il comune vuole sapere se la modifica è soggetta alla valutazione ambientale riconsegnata al comune l'ex prefettura nella nuova sede il più spazio a favore anche dei cittadini gli arresti assicurati alla giustizia due latitanti romeni entrambi erano stati condannati per furti ai danni di abitazioni private e alle attività imprenditoriali la pagina successiva ci parla ancora di caldo di record di siccità e non solo in particolare si parla di Cividale del Friuli così descritta come un forno tra virgolette a luglio la temperatura media ha superato i 34 gradi ottavo mese di fila con poche precipitazioni i cali anche del 100% il report dell'Osmer è da brevidi estate sempre senza respiro oggi dovrebbe arrivare la pioggia scatta l'allerta gialla in Friuli come abbiamo anticipato poco fa temporali anche con piogge abbondanti si dovrebbero registrare dal pomeriggio sera di oggi poi a cavallo anche con la giornata di domani venerdì 19 agosto l'assistente alterata cade su un anziano una ossa è stata licenziata in una casa di riposo a grado era sotto l'effetto di sostanze alcoliche secondo quanto riportato dai carabinieri del NAS di Udine che la hanno allontanata a Ferragosto strade messe in sicurezza a Lignano festa blindata ritirate due patenti per guida alcolica ma diciamo sono state poche solo due rispetto ai 64 persone autisti controllati a Lignano con un malore in acqua mentre fa il bagno è deceduto un uomo di Albignasego di 65 anni Luciano Pizzato ieri mattina è accaduto mentre stava facendo il bagno nella zona di Lignano Pineta si ipotizza sia stato ucciso da un malore ed ancora invece informazione spostandoci usciamo dal gazzettino nel quale abbiamo visto le principali notizie parliamo di sanità e di riorganizzazione di servizi in ASO lo facciamo grazie ora invece al Messaggero Veneto ripartiamo da qui con il titolo spazi riorganizzati nel pronto soccorso per pazienti covid e poi via libera agli lavori sarà strutturata l'area d'emergenza destinata ai positivi progetto per ricavare 18 posti letto di terapia semi-intensiva sopra nella parte più alta ci sono le note lavori il cantiere aperto entro l'autunno interventi ampliamento della sala d'attesa l'investimento da oltre 330 mila euro nel padiglione 1 nuovi posti letto come si diceva per le semi-intensive poi la piastra trasferimento del personale del 118 dopo il covid una nuova gestione delle emergenze si è resa necessaria il bilancio poche piazzole per atterrare l'elisoccorso funziona solo a metà questa la denuncia oggi e poi anche il bilancio rispetto alla stesso elisoccorso e servizio in regione Udine estate fa il pieno 30.000 presenze si cambia argomento in questi primi due mesi di appuntamenti l'obiettivo però è superare quota 50.000 raggiunta lo scorso anno programma che spazia dalla musica al teatro dalla danza fino a arrivare all'arte la proprietaria è in vacanza e così spariscono i soldi gli ori e le perle il bottino è ben 15.000 euro è successo a Udine nel via di Toppo furto è stato messo a segno in casa tra l'8 e il 16 agosto all'apparenza non ci sono scontri non ci sono riscontri rispetto a segni e defrazioni e poi invece a destra abbiamo le immagini rispetto all'ultimo saluto le vediamo qui anche con il pubblico presente i funerali a San Domenico l'ultimo saluto a Petrucco chiudiamo con l'ultima notizia per la città di Udine Don Armando e la sua Africa dice qui c'è una ricca umanità padre Coletto originario di Fagagna racconta la sua esperienza di 40 anni religioso frullano si dice innamorato della civiltà trovata in Camerun e in Chad abbiamo la storia poi sotto sintetizzata con questo ci fermiamo solo un attimino andiamo con l'ultima breve pausa prima poi di procedere con l'intera provincia di Udine e Pordenone affronteremo i vari comuni oltre a leggere i vostri messaggi molti continuano a pervenire ancora ci segnalano Maniago pioggia buongiorno grazie Florence che ci scrive dalla provincia di Pordenone ci sta segnalando la pioggia poi ancora Angela Bozza che dice finalmente piove grazie per le vostre segnalazioni in tempo reale continuate così tra un po' ne leggeremo altri piccolo break a tra poco allora ci fermiamo minuto e mezzo dai ci fermiamo solo un attimo e poi ripartiamo invece con la montagna ovviamente da forni di sopra Tolmezzo forni a voltri le cronache beh poi come già ho accennato faremo un po' tutti i comuni allora vedevo un po' di messaggi che continuano ad arrivare grazie per le segnalazioni della pioggia dai finalmente si può dire finalmente un po' di pioggia come ci state segnalando ancora altri messaggi provincia di Pordenone piove grazie Lori grazie Lori anche lui ce lo segnalo e poi tantissimi altri fatemi sapere qual è la situazione a metro aggiornata in temporale da voi mentre andiamo a fare ulteriori altri saluti allora vado a salutare la Tiziana che mi scrive da Palmanova siamo nella bassa frulana mi dice Roberto buongiorno per me niente ferie prima del 4 settembre per motivi lavorativi va bene Tiziana grazie per averci iscritto allora il nostro è un augurio di sopportare portare pazienza perché le ferie sappiamo sono veramente per tutti necessari quindi anche per te non saranno soprattutto ci si stai parlando di lavoro però fino al 4 settembre non potrai farlo niente seguici e ci aggiorneremo via messaggio allora ancora una volta con in bocca al lupo per la tua attività ancora messaggio oltre alla Tiziana andiamo con chi ci segue dal Veneto orientale il caso invece della Federica che ci segue da San Michele al Tagliamento siamo a confine con la Tiziana quindi tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia nella fede che ci saluta e ci dà la buona giornata semplicemente dice sono collegato con voi grazie per le informazioni figurati grazie a voi senza telespettatori non faremo assolutamente nulla San mi aggiorna rispetto alla situazione meteo dicendomi bonjour Roberto all'ignano niente pioggia al momento quindi un po' di temporali sulla destra Tagliamento da quanto leggo dei vostri messaggi quindi più nel Friuli Occidentale un pochino meno nella bassa in altre zone e così confermatevi grazie per le vostre segnalazioni lo ripetiamo ancora una volta l'abbiamo detto questa mattina due volte una volta alle 6 e mezza e poi alle 7 abbiamo un'allerta gialla in corso quindi attenzione se vi dovete organizzare per le cose all'aperto è sconsigliato perché appunto avremo precipitazioni che potranno essere anche localmente intensi e abbondanti tra il pomeriggio e la sera di oggi ma anche per la giornata di domani si tratti un'allerta gialla diramata dalla protezione civile regionale non è allarmismo ma è un'allerta quindi significa facciamo in questo caso attenzione se stiamo organizzando qualcosa o nello muoverci di casa questo l'abbiamo detto siamo pronti per ripartire Francesco Snidero che in regia mi dice che mancano pochi secondi siamo pronti avremo circa 15-17 minuti a nostra disposizione per completare l'intera informazione delle due province di Udine e Pordenone allora se volete accendete la tv anche sul canale 11 del digitale un ultimo spazio a nostra disposizione un altro quarto d'ora circa per andare a completare lo sfoglio analisi dei quotidiani rimanendo sempre in questo specifico caso con il messaggero veneto partendo dalla montagna per poi procedere con l'inare medio friuli basse friulane spostarci nel friulio occidentale friulio occidentale dove ci stanno segnalando piogge in particolare ci si ve Filomena Angelo Piccirillo e dice buongiorno Spilimbergo piove grazie per le vostre segnalazioni ancora mentre invece a Sanci dice che a Lignano al momento niente piogge ancora tanti messaggi come invece quelli che coloro sono le persone che non possono andare a ferie ancora per motivi lavorativi come c'è scritto la Federica poco fa dice per me ancora annunte ferie fino al 4 settembre per motivi di lavoro vi seguo con interesse grazie per il programma Federica è un piacere insomma leggere questi messaggi anche così che si associano a tutti gli altri rispetto a quanti ci seguono giornalmente non perdiamo ulterior tempo andiamo invece con informazione cronaca bloccata sopra la cascata a 30 metri di altezza è stato salvato un escursionista un intervento importante impegnativo la notte scorsa grazie ai nostri tecnici del soccorso alpino per un uomo rimasto bloccato tra le pareti rocciose a 30 metri di altezza si tratta di un 41enne un turista di Brescia che è stato salvato nella notte scorsa dalla stazione di Forni di sopra del soccorso alpino insieme anche ai vigili del fuoco di Tolmezzo a destra vengono pubblicate alcune immagini proprio riguardo agli interventi a queste fasi delicate le operazioni di salvataggio dell'escursionista da parte degli stessi tecnici ancora sotto Tolmezzo cannoni sulle derivazioni d'acqua 70% degli incassi andrà ai comuni a Forni a Voltri cade lungo il sentiero all'ospedale finisce un 73enne edifici comunali imbrattati i ragazzini sono stati incastrati dai video tre sono stati ripresi dalle telecamere con una bombolette di vernice in mano siamo a tricesimo vediamo le scritte che sono apparse grazie alle immagini pubblicate dal quotidiano oggi in edicola sulle pareti degli edifici comunali di tricesimo nella zona di via san pelago danneggiamenti anche nelle terrazze verdi attrezzate del territorio comunale un'area verde invece intitolata Robert Miles l'omaggio l'omaggio di Fagagna l'autore di Children l'evento è fissato per il 3 novembre già da settembre partiranno le iniziative dedicate proprio al pioniere della Dream Music come vediamo proprio qui nel volto ancora lo ricordiamo il fagagnese Roberto Conci nato da tutti conosciuto come Robert Miles l'autore del singolo Children deceduto nell'anno 2017 addio invece a un'altra persona in questo caso parliamo di Monsignor Baccino prete storico Cividale del Friuli decano dell'insegna collegiata aveva compiuto 94 anni era parco di San Guarzo carriare e purgessimo lo vediamo nelle immagini Monsignor Bruno Baccino con l'arcivescovo Andrea Bruno Mazzocato a destra il paroco deceduto 94 anni in un momento di studio a Butrio registrazioni mancanti in aula l'opposizione dice si indaghi rispetto a questo per il medio Friuli a Codroipo Cisle Will sugli infermieri dell'ASP pagare di più quelli che sono in servizio questa è la proposta all'incontro con il commissario dell'amoro che conferma la ricerca dei professionisti o con il personale rimasto va retribuito meglio Bressan ci aspettiamo ora un accordo a destra tradizione rinnovata la chiesetta di Pozzo Codroipo il 16 ha ospitato le due messe a Pazian di Prato i vicini di casa non lo vedono per del tempo l'uomo era deceduto in casa muore per un malore l'ex consigliere FDS Piracini per lui donare era un dovere un orgoglio e di questo Roberto operaio 55 ne era convinto tanto che aveva tagliato il traguardo delle 146 donazioni l'uomo è stato trovato in casa in via Santa Caterina Pazian di Prato dai carabinieri allertati dai vicini purtroppo un malore fatale ha spento l'uomo per sempre vediamo il volto di Roberto Piracini 55 anni da tutti conosciuto anche per il suo appunto associazionismo legato alle donazioni del sangue a Castions investito da un'auto un uomo ieri è finito all'ospedale sotto la lettera Pozzuolo Kumovonde stop alle discariche approfondimento nella parte più bassa del giornale bassa Friulana Cervignone del Friuli i tabelloni elettorali coprono il monumento il sindaco li fa spostare ricollocati dopo queste proteste visuale libera sul simbolo ai caduti l'opposizione chiede sedi alternative alle scuole per i seggi vediamo sotto anche le immagini a completezza della news oggi pubblicate dall'alto il monumento dei caduti sulla destra oscurate e ora invece liberate dai cartelli che li occultavano nato il comitato dell'ISIS progetti condivisi tra istituto e imprese rispetto a San Giorgio di Nogaro e poi invece a Lignano ancora con la cronaca nera per un altro malore questa volta il malore è venuto in mare il turista 65enne è deceduto proprio tra le onde della località balneare l'uomo è un padovano come ogni mattina era andato a nuotare non vedendolo rientrare la moglie ha dato l'allarme più tardi stato fatto il ritrovamento del suo corpo quando la moglie che si trovava nei pressi della spiaggia non l'ha visto tornare alle 8.30 è scattato l'allerta per Luciano pizzato 65 anni deceduto per questo malore fatale in acqua invece la tisana piange Rolando Bortoluzzi è deceduto l'uomo che aveva guidato la protezione civile della città l'innovatore come lo descrivono oggi nel messaggero sempre al servizio della comunità dei suoi concitatini dotato di una grande umanità molto stimato alla tisana si è spento a 72 anni in un equilibrio precario di salute ma con altre poi aggiunte problematiche sanitarie in corso finché espirato nel letto dell'ospedale di la tisana poi sotto viene raccontata un po' la lunga carriera professionale di Rolando Bortoluzzi del quale la città oggi piange la sua scomparsa sotto immagini legate allo spettacolo pirotecnico si cambia decisamente argomento parlando degli oltre 40 minuti di spettacolo legato ai fuochi d'artificio a Lignano Pineta andato in scena la scorsa sera usciamo quindi dalla bassa della provincia udinese entramo invece nel friuli occidentale ancora con il buongiorno alle persone collegate con noi anche da questo territorio la prima pagina oggi è diversa rispetto a quella che già avevamo visto insieme alle 6 e mezza perché nella parte centrale vi è un collage di foto, volti, persone che sono gli ambulanti preoccupati che incontreranno il sindaco e da allora andiamo in ordine avendo visto questo partiamo proprio dalla città con loro e le loro preoccupazioni legate al mercato e al futuro un nuovo confronto col primo cittadino disparità tra posti disponibili 83 il mercoledì e 115 il sabato domande rispettivamente 96 e 138 oggi è affrontato nel dettaglio la situazione gli ambulanti giovani e poi ancora la nota che dice con una trentina di punti in graduatoria rischio di sparire da questa piazza siamo pendolari da Orsago un'altra testimonianza dal 1979 in Veneto i rinnovi sono stati invece automatici ancora polemiche e proteste in merito siccome argomento commenti l'addio all'istituto del territorio Friulandria il frutto dell'evoluzione della banca l'ex presidente Scardaccio ripercorre la storia dell'ente di credito la CISL valuta quali effetti avrà questa riorganizzazione del quale stiamo parlando proprio nelle ultime giornate anche piazza Risorgimento diventa sede di eventi estivi 30 agosto Marco Anzovino presenterà il suo ultimo libro tra parole e musica l'uomo dice sono felice di poter dare un contributo alla valorizzazione di questo luogo azienda sanitaria si torna a parlare di operatori in questo caso di infermieri passano dal settore privato più di 40 da inizio anno da inizio anno c'è preoccupazione per almeno 40 tra i quali moltissimi infermieri che lasciano il servizio pubblico per dedicarsi alle strutture private oggi la denuncia da parte della CGL per Luigi Benvenuto che rimarca ancora qual è la senso di frustrazione e ancora invece non agevolazione da un punto di vista aziendale sanitaria rispetto agli operatori in servizio il bilancio l'elissocorso funziona soltanto a metà ci sono poche piazzole la celebrazione l'abbiamo già letto l'area verde di Fagagna sarà intitolata Robert Miles il soldi dell'otto per mille impiegati dalla diocesi per aiutare i bisognosi abbiamo anche una curiosità un primo matrimonio a Cornino protagonisti ci sono proprio due pordenonesi nella pagina successiva si entra nel comune siamo invece in questo caso a San Quirino un censimento legato alle case per decidere il futuro del villaggio Vaiont 2 chi vi risiede paga le tasse al comune di Erto e Casso sindaco dice verificheremo la titolarità anche dei fanbrecati a Porcia nuove telecamere anche negli asili 60.000 euro di fondi regionali per andare a implementare questo servizio perché l'amministrazione vuole installare nelle scuole per l'infanzia e ancora nelle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili le telecamere di video sorveglianza a Cordenosa aumentano i casi di pozzi a secco famiglia in crisi problemi in altre due vie con punti di prelievo domestici sindaco ribadisce l'invito da lacciarsi all'acquedotto bonus iderci nel caso appunto vi siano queste emergenze a Sacile emergenza a casa sempre più famiglie rischiano lo sfratto oltre 160 i casi di disagio abitativo nell'ambito sociale sindaco spagnolo vogliamo dare risposte entro l'anno afferma dalla partita del cuore ai tour fluviali le prossime attività della Canoa Club di Sacile li vediamo anche qui in una immagine sotto gara solidale dopo il rogo ripartiti anche i corsi al Canoa Club ora si pensa pure alla costruzione e progettazione della nuova sede che andata quella vecchia purtroppo distrutto dall'incendio che abbiamo appena citato si torna sulla tragedia che nel vicino Veneto appunto ha visto la morte di quattro ragazzi domani a Stevenacci sarà l'addio a Marco da Re le esecue saranno celebrate alle 16 nella chiesa parocchiale siamo a Caneva il primo cittadino è il momento del silenzio e delle preghiere vediamo il volto di Marco da Re uno dei quattro amici che hanno perso la vita al rientro a casa dopo le due della notte a Godega di Sant'Urbano tutti all'interno della stessa automobile che è finita contro un albero il saluto comunitario ai quattro amici nella veglia di stasera poi funerali separati per il rito scelto allo stadio di Cordignano sono attesi tanti amici e quattro sindaci in un'immagine accanto vediamo proprio questa continua deposizione di mazzi di fiori su quello che è stato il luogo lo scenario dell'incidente dove i quattro giovani nemmeno ventenni hanno perso la vita si cambia argomento ad avviano la regione concede fondi per completare il centro dei visinai 600 mila euro si aggiungono a 1,2 milioni già disponibili struttura polivalente potrà ospitare gare ma anche dicono sotto concerti e poi per Pasiano la direzione del Gozzi resta a Orto Teatro ancora con coniugi che muoiono a poche ore di distanza li vediamo qui nell'immagine pubblicata dal giornale dopo aver vissuto insieme 65 anni loro sono Carlo Mio e Ave Chiarotto si erano conosciuti da adolescenti erano immigrati in Francia tornarono a fiume Veneto nel 1969 il ricordo dei figli il più grande dolore fu la perda prematura di nostra sorella li vediamo qui insieme i coniugi con questo strano caso loro due si conoscono in adolescenza e poi muoiono a pochissime ore di distanza a 65 anni dopo San Vito al tagliamento PNR finanza i lavori per ampliare il nido in arrivo a 335 mila euro asilo comunale arcobaleno passerà da 40 a 60 posti sindaco traguardo importante per aiutare le mamme le famiglie la rassegna in piazzetta spettacoli di teatro amatoriale e poi invece a casarsa basta seggi nelle palestre delle scuole si pensa di utilizzare il palarossa all'ordinanza San Vito un tratto di via Delfino oggi sarà chiuso per lavori cittadinanza onoraria a donne vitaliano papais andiamo nelle ultime pagine a nostra disposizione con lo sfoglio del giornale a Spilimbergo maccia bocce e scacchi trainano gli affari nei locali del centro sindaco tira le somme dei weekend di eventi bilancio più che positivo la vigilanza è stata garantita dai volontari certificati dalla Proloco Meduno omaggia la scuola che ha frequentato dipingendo un morale un'altra storia è quella di Don Gualtirobertolo che si congida dopo 30 anni il suo messaggio guida è siate compassionevoli considerato un medico spirituale dell'ospedale la casa dei ranziani la comunità maniaghese avrà modo di salutarlo giovedì 8 settembre lo vediamo a destra proprio anche in un'immagine ad integrazione in Valcellina fine settimana animato da Aria delle Dolomiti sport musica stand Frisanco sabato sera un concerto nella chiesa di Profambro mentre a Barchis le bacheche turistiche leggibili tutte grazie al QR code con questo siamo arrivati in fondo alla nostra rassegna grazie per averci seguito fino a qui mentre continuo le vostre segnalazioni di precipitazioni e piogge proprio in questo preciso momento in particolare nella destra tagliamento ancora grazie a Francesco Snidero che invece si è occupato della parte tecnica in regia a tutti voi ancora una volta l'invito l'appello a seguirci anche più tardi in replica alle 8.30 oppure il mattino presto le 6.30 siamo qui con voi per la colazione e anche lo sfoglio dei quotidiani l'augurio di una buona giornata grazie a tutti